Diamo un buongiorno a Isabella Pinto, buongiorno Isabella. Buongiorno Federica, buongiorno a tutte e a tutti. Oggi andiamo a parlare del suo ultimo libro, Elena Ferrante, Poetiche e Politiche della Soggettività. Cosa può non solo questo binomio letteratura-filosofia, ma cosa reso e cosa rende Elena Ferrante non solo appunto un caso editoriale letterario di enorme dilevo, ma anche cosa rende la sua poetica così speciale e meritevole poi di essere approfondita in saggi, master universitarie, tutto quello di cui hai parlato anche tu all'interno del tuo libro e dei tuoi lavori anche universitari, non solo letterari. Grazie Federica per questa bella e complessa domanda. Sì, questo è il libro, intanto facciamolo un po' vedere. Allora, innanzitutto mi viene un po' così da dire, da condividere, che le domande di ricerca di questo percorso vengono assolutamente dalla mia esperienza politica all'interno dei movimenti studenteschi e sociali che si sono dati, diciamo, alcuni anni fa, quindi il movimento dell'onda piuttosto che l'occupazione dei teatri in cui mi ero, insomma, resa conto che la soggettività, la questione di narrare le soggettività politiche era una questione estremamente problematica. Al contempo i miei studi sulla letteratura contemporanea e sulla filosofia, diciamo, più esterna all'università, almeno a come nell'università italiana si insegna, appunto, no? Ho incontrato questa autrice che metteva sul piatto tutta una serie di questioni, anche politiche, ovviamente oltre che letterarie, e quindi questa enorme capacità di far vedere come la soggettività, la soggettività che narriamo, sia al contempo singolare e collettiva, e come, diciamo, questi due elementi convivono in maniera estremamente conflittuale, ma anche molto generativa, all'interno dei suoi romanzi. E quindi, ecco, questo è stato un po' il motivo che mi ha avvicinato molto a questa autrice, appunto, Elena Ferrante, forse non ha bisogno di tante presentazioni, ma d'altronde non sappiamo neanche chi sia, no, in realtà. E quindi questo era un altro elemento che mi risuonava rispetto a delle poetiche molto politiche, come l'esperienza del Luther Blissett, prima e dei booming poi, quindi, no, con un'attenzione anche ai movimenti contemporanei, i movimenti politici, e questo, ecco, mi sembrava un... nei suoi romanzi, nelle sue opere, nei suoi interventi di... appunto, anche di autocommento, ho ritrovato tanti strumenti utili per chi si occupa di politica e per chi si occupa di politica, appunto, da punti di vista esterni alle istituzioni, quindi con questo grande desiderio di inventarsi nuovi modi di vivere, nuovi modi di stare insieme, ma anche, no, nuove forme di vita, quindi prendersi in carico il problema del... della singolarità che ciascuna e ciascuno di noi inevitabilmente si porta appresso. Eh, anche su... su questo, appunto, hai centrato un pochino anche quello che... di cui volevo parlare e discutere un pochino con te. Come sai, io ho poi da sempre una particolare attenzione al linguaggio e un po' alle sue diverse declinazioni nella lingua scritta e parlata. L'invenzione della linguistica, proprio, di Elena Ferrante, credo abbia raggiunto vette veramente inaspettate, sì da... sì da chi la segue dai suoi primi lavori fino, appunto, agli ultimi. Poi parole su cui tu hai lavorato che creano non solo immaginare, ma connessione proprio di pensiero, su cui, appunto, tu ti sei soffermata, pensiero transfeminista che parla di desideri, di conflitto e credo su tutto anche proprio di vere e proprie pratiche politiche, no? Che è quello di cui tu parlavi poco fa, cioè, dalla soggettività, poi si è in grado di parlare ad una collettività che si organizza e crea poi quello di cui, appunto, stavi parlando tu. Sì, assolutamente, mi fa doppiamente piacere questa domanda, perché in realtà nel mondo accademico si dice che Elena Ferrante abbia un linguaggio estremamente piatto, estremamente commerciale, è questo il motivo del suo successo all'interno del mercato globale, cosa che, appunto, io sono assolutamente d'accordo con te, invece il linguaggio di Elena Ferrante contiene tante invenzioni, probabilmente invenzioni che non risuonano a chi ha un bagaglio culturale, appunto, limitato a quello che è, ad esempio, la letteratura tradizionale, occidentale, contemporanea, che è molto maschile, e chi si riferisce semplicemente a, appunto, le invenzioni, le sperimentazioni che sono state canonizzate poi all'interno dell'Accademia, quindi le neo-avanguardie degli anni settanta, di cui sicuramente Elena Ferrante prende le distanze, inventandosi qualcosa di nuovo, e quindi con questo uso del dialetto napoletano sempre solo allusivo, quindi c'è un, lei mantiene delle strutture sintattiche, ma il lessico è per lo più italiano, di questo italiano standard, anche piatto, ma che secondo me, appunto, riserva delle, una scelta estremamente precisa, perché al contempo, invece, si inventa delle parole che sono un po', appunto, delle parole che sono dei portali all'interno di questi nuovi mondi che stiamo immaginando tutti insieme da diversi punti di vista, quindi come, ad esempio, la frantumaglia e la smarginatura, due parole limite, parole limite... Hai sembrato proprio, diciamo, quello di cui volevo parlare con te. Esatto, parole limite che un po' ci fanno pensare anche, che è, ad esempio, alla filosofia di Deleuze e Gattari, quindi questo, appunto, questo far balbettare la lingua con elementi esterni rispetto alla lingua standard, ma rifacendosi alla lingua del desiderio, alla lingua che impariamo nei primi anni di vita, quindi anche rimettendo in circolo il rapporto turbolento, ad esempio, con le nostre madri e anche con le madri simboliche, cioè con chi ha il potere di imprimere su di noi, appunto, degli immaginari. E quindi questo, al contempo, ci permette, ecco, di parlare di potere, ma non solo potere femminile e potere tra donne, perché io credo che i femminismi transfeministi siano importanti e fondamentali oggi per tutte e tutti, perché sono dei sistemi di pensiero, delle pratiche che si pongono il problema del potere, ecco. E mai come queste filosofie e queste pratiche, queste narrazioni troviamo questa centralità, una centralità che ovviamente è conflittuale, problematica, non, non, niente è dato per scontato e non ci sono fine, fini idilliache, no? Di, eh, di uno stare insieme senza alcun problema, no? È proprio, eh, appunto, attraverso la lingua, attraverso delle immagini, attraverso il racconto delle relazioni di amicizia, far vedere come, eh, no? Tutta la nostra vita è intessuta un po' di potere che passa anche attraverso la lingua. Allo stesso tempo, eh, una cosa bellissima, eh, dei romanzi di Elena Ferrante, e questo molto di più nella serie dell'Amica Geniale, eh, si fa vedere come Ferrante, fa vedere come le, eh, perché a un certo punto parla del racconta del movimento studentesco degli anni, del sessantotto, eh, e dell'inizio degli anni settanta, e fa vedere come, eh, le studentesse che prendevano parte a questo movimento erano innanzitutto, eh, diciamo, subordinate, perché non esisteva una lingua, eh, che le comprendesse, no? Che parlasse anche delle loro esperienze, del loro punto di vista sul mondo. Quindi, ecco, Elena Ferrante, i suoi romanzi, secondo me, aprono a una riflessione enorme che è stata fatta soltanto, eh, diciamo, in luoghi, appunto, luoghi extra-istituzionali, eh, e che invece andrebbe, dovrebbe diventare un po' patrimonio di tutte e tutti, e quindi, eh, i suoi romanzi, questo un po' ce lo permettono. Sì, ce lo permettono e secondo me ci aiutano anche a leggere quello, il dibattito che è in corso adesso, urgentissimo, proprio sulla questione della lingua, e sulle sue varie declinazioni, su come non ci si senta più rappresentati da anche un modello di scrittura, che però è sempre un modello di pensiero, quindi, cioè, quello che scrive ovviamente deriva da tutto un processo mentale, e quindi anche il ritrovare un po' una modalità differente di coniugare non solo il pensiero e l'azione, ma anche proprio la parola, e non aver più paura, no? Cioè, non ha più paura nemmeno l'Accademia della Crusca su alcune cose, a, come dire, a giocare con la lingua, a rimetterla anche alle disponibilità e a quelle che sono anche le urgenze di, appunto, chi non si sente più rappresentato non solo da un certo tipo di politiche, ma anche da un certo punto di vista, di politiche che poi vengono, appunto, messe in pratica e declinate sotto forma di, appunto, sotto forma di parola. Quindi su questo, secondo me, è un qualcosa di molto urgente ed è un nodo che è molto interessante. Assolutamente. Infatti vediamo come Elena Ferrante non sia assolutamente l'unica a darci degli strumenti in questo senso, l'emersione, no? Dell'esigenza di usare, ad esempio, l'asterisco per mettere in questione il binarismo di genere che passa attraverso la lingua, così come l'uso della schwa, che è una proposta fatta da Vera Gheno, insomma, no? L'invenzione linguistica come qualcosa che permette, appunto, alle soggettività di rendersi visibili. Ecco, questa cosa, devo dire però, che nell'accademia e nelle istituzioni culturali diciamo, è un po' difficile ancora da far passare a differenza invece di queste nostre nuove istituzioni che sono quelle in cui è possibile che avvengano queste trasformazioni e che non siano soltanto, no? Invenzioni individuali e che quindi siano semplicemente dei giochi, no? Di invenzione linguistica ma che diventino veri e propri strumenti linguistici capaci di costruire un altro mondo che è un mondo molto più vicino all'esperienza che ciascuno di noi ha, no? Quindi ben venga l'apertura, la timida apertura di alcune istituzioni ma io penso ci sia tantissimo ancora da fare e appropriarsi anche dello strumento della scrittura narrativa anche laddove è pop perché Elena Ferrante secondo me sceglie assolutamente di stare all'interno del registro pop soprattutto a partire dai romanzi dell'amica geniale della tetralogia no? E quindi proprio andare a incidere rispetto all'immaginario collettivo l'immaginario della cultura di massa no? E quindi anche non vedere più questa separazione tra una cultura supposta alta è una cultura bassa commerciale e sappiamo che la scrittura delle donne stava sempre dalla parte del commerciale mi viene in mente tutti i romanzi di Elsa Morante che sono sempre stati trattati in questo modo e invece oggi sono assolutamente riscoperti oppure la stessa Ursula Le Guin scrittrice di fantascienza che veniva pubblicata in Italia dalla casa editrice Mondatori nella collana ragazzi quindi no? Quanto queste sistematizzazioni non coincidono assolutamente con anche le nostre esigenze di andare a trovare degli strumenti nel passato immaginati nel passato ma che ci possono essere utili anche oggi assolutamente poi tra l'altro vogliamo anche dirlo lo direi proprio come manifesto che quando uno dice scrittura pop piuttosto che è un qualcosa di pop non è un qualcosa di negativo cioè forse dovremmo anche imparare a dare più dignità a dei termini che sono stati sempre utilizzati in un certo modo tra l'altro sempre svilente e di solito sempre associati chissà come mai all'universo femminile e mai a quello maschile perché è difficile che a un uomo si dica che fa dell'alteratura pop o fa dei discorsi pop invece quando all'universo femminile che porta avanti qualcosa in un modo differente da come ce lo si è immaginato incredibilmente le categorie diventano tutte categorie atte a colpire non si sa bene cosa peraltro di solito la credibilità anche assolutamente ricordo in questo senso un aneddoto molto divertente almeno per me che quando uscì Q dei Wuming quindi un libro appunto immaginato per essere letto da tante e tanti in una collana in una casa editrice appunto che stava facendo questo tipo di operazione quindi la stile libero di Einaudi e appunto la questione che non si sapeva chi avesse scritto questo libro per il successo commerciale che stava facendo tantissimi critici diciamo si sono espressi dicendo beh questo è un libro che ha scritto assolutamente Umberto Eco e Umberto Eco non ha non ha minimamente smentito questa cosa e questo è il motivo per cui poi uno dei motivi per cui i Wuming poi si sono anche diciamo sono usciti dall'anonimato no? Quindi quanto appunto anche il canone maschile sia sempre lì pronto ad appropriarsi delle invenzioni che si discostano da questo ad esempio politica dell'autore l'autore come genio creativo sicuramente maschio sicuramente anziano no? E quindi capace di di vedere e sapere tutto di tutti no? Perché è un po' anche questo il problema del punto di vista unico l'esigenza di avere più narrazioni più punti di vista è perché evidentemente la realtà è molto più sfaccettata rispetto a quello che ci può raccontare il romanzo tradizionale anche quello contemporaneo no? Quindi quello scritto da maschi eterosessuali bianchi normodotati c'è c'è più di quella realtà noi lo sappiamo lo viviamo tutti i giorni e però difficilmente la troviamo nelle nella letteratura canonizzata e quindi è così e poi tra l'altro su questa cosa appunto sul nodo della della sparizione che ovviamente mi ha portato in mondi accompagnata da te in mondi molto interessanti è uno dei dei nodi che io ho visto e ho vissuto soprattutto come centrali proprio nell'approccio alla Ferrante non solo in chiave appunto letteraria e filosofica ma anche in chiave proprio psicoanalitica nel senso che il modo in cui la Ferrante rompe definitivamente il modello soggetto autore e il tema della sparizione mi fa domandare poi com'è questo questo spazio in cui si rompe all'interno di un panorama letterario non solo tra l'altro italiano perché è andato assolutamente molto oltre però è una domanda che mi pongo perché secondo me tutte le cose che hanno questa rottura e poi questa smarginatura poi portano invece a rivedere e a rileggere delle cose molto interessanti su cui magari non avevamo pensato o non avevamo subito associato assolutamente sì questo suo diciamo creare un vuoto nella parte dell'autore dell'autore quello dell'immagine dell'autore potremmo dire quello che emerge dai media quello che l'autore stesso diciamo a poca presa se vogliamo e invece lei o lui o loro insomma chi è dietro a questo a questo nome hanno deciso ha deciso di sottrarsi quindi innanzitutto c'è la pratica della sottrazione che è una pratica del femminismo dei movimenti femministi e che già questo ci dice ci dice qualcosa ad esempio Rivolta Femminile che è il collettivo di femministe radicali attivo in Italia negli anni settanta di questo aveva proprio fatto una una pratica che metteva no in atto ogni volta quindi sottrarsi dalle celebrazioni della cultura maschile per far vedere no quanto fossero anche parziali queste queste celebrazioni quanto fossero da un certo punto di vista vuote che ripetivano sempre l'identico al contempo però lei lui loro hanno creato appunto anche una poetica attorno a questo quindi non soltanto una presa di posizione politica all'interno della cultura italiana che sappiamo essere sempre molto stantia e lei appunto ha impresso in questa cosa anche un un discorso assolutamente poetico che parte dalla da una rivisitazione della psicanalisi no quindi con questo riportando un po' la mente il rovesciamento che il femminismo della differenza ha fatto rispetto alla la psicanalisi freudiana e lacaniana e però poi è andata anche oltre questo questo elemento quindi ci dice che Elena Ferrante è un un'autrice che sta attenta anche alle invenzioni dei nuovi femminismi no spesso io mi sono trovata a dover discutere di quanto sia solo esclusivamente voce del femminismo della differenza io vedo nei romanzi di Ferrante tantissimi femminismi no e quindi questa sparizione in realtà per me è molto utile leggerla come una posizione della narratrice traduttrice a un certo punto propongo perché è proprio sembra imperniata su questa relazione sia la relazione ovviamente di Elena e Lila le protagoniste dell'amica geniale ma anche la relazione che si viene a instaurare tra il traduttore la traduttrice e l'autore o autrice che viene tradotta no cosa succede in questa relazione c'è appunto una persona che con tutto il suo bagaglio di saperi deve dare voce a un'altra voce no e quindi ha sicuramente dei paletti ma chiaramente come sappiamo purre da una lingua all'altra non è una pratica così oggettiva no c'è comunque un'invenzione propria da mettere all'interno di questa di questa relazione quindi e quindi di questa scrittura per cui ecco anche questo io lo vedo come una possibilità di immaginare sia la posizione soggettiva di ciascuna ma anche appunto le posizioni collettive che ciascuno di noi si porta presso con altri strumenti semplicemente con altre pratiche che esistono nel cui è ora forse a cui dobbiamo semplicemente dare più un po' più della nostra attenzione per avere nuovi strumenti di ragionamento di invenzione di per immaginare diversamente le nostre relazioni questo questo certamente ecco ecco assolutamente io ti ringrazio Isabella intanto vabbè io concluderei questa intervista insomma dicendo anche che io Isabella siamo amiche da e compagni da molti anni nel senso che ci vediamo spesso e ci siamo ritrovate proprio ci siamo conosciute non ritrovate ritrovate sempre conosciute ormai un sacco di anni fa quindi insomma quello il lavoro di Isabella insomma mi faceva molto piacere presentarlo qui a Sherwood anche perché insomma credo che sia un buon inizio anche per poi ritrovarci su queste tematiche intorno al tuo libro ma non solo e ampliando tutti i discorsi che abbiamo fatto quindi sogno che dopo questa presentazione di oggi insomma potremmo fare qualcosa anche di più allargato di discussione che secondo me è qualcosa di molto interessante intanto grazie perché gli spunti sono sempre sono sempre non solo graditi ma in questo caso proprio sperati agognati grazie Federica se si vuole immaginare qualunque altro tipo di incontro che a causa della pandemia appunto è molto difficile organizzare in presenza però appunto la distanza con questi mezzi tecnologici forse è possibile per cui ecco grazie per essere per avermi ospitata e per qualunque altra cosa verrà dopo di questo ecco benissimo grazie intanto buona giornata e a presto grazie ciao a tutte grazie 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 grazie